Tesoro, solo un paio di giorni fa... Troveremo qualcosa di meglio, che si addica alla camera da letto. Va bene, va bene, come vuoi, però quello dove lo vuoi mettere. Ci devo pensare. Allora, quando l'avrai deciso, fammelo sapere, va bene? Ciao, devo scappare. Lo sai, in questi giorni sei molto enigmatico, deputato. Ma che amo. Ti amo anch'io. Ciao. Tieni. Mi raccomando, guardami. D'accordo. Tieni.